Questo è un test dove sono stati in campo due giocatori che volevo vedere in campo, ci sono stati molti cambiamenti, di solito quando le cose vanno bene come vanno, come andavano nei primi due set la squadra si tocca poco, però non era quello l'obiettivo, l'obiettivo era vedere in campo alcuni giocatori che mi interessava ulteriormente testare, dopo il torneo in colonia, questo è successo, quindi il risultato, come è che c'è proprio, qui abbiamo perso tre volte tra due, secondo me, quando si può parlare di altre cose, di questo risultato significa che sei in una fase in cui tu stai preparando l'appuntamento, noi questo stiamo facendo, oggi è l'ultimo giorno di preparazione a Monza, adesso abbiamo due giorni a Verona dove faremo chiaramente un lavoro molto diverso, sono di avvicinamento all'alto o meno, quindi andiamo a finalmente giocare, l'obiettivo è tornare a casa l'ultimo giorno.